Musica Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 6 del Focus che ogni settimana fa No TV dedica allo sport del territorio Apriamo anche oggi con il calcio, l'immediato ritorno alla vittoria dell'Alma Juventus Fano che sabato nell'anticipo ha superato la bastese approfondiremo i diversi aspetti della gara di sabato con Umberto Nappello, attaccante della squadra Granata Buonasera e benvenuto Salve e buonasera a tutti Mentre della squadra ma soprattutto di altri aspetti che riguardano la vita societaria d'attualità in questo momento in particolare tratteremo con Giovanni Orciani che è componente del comitato esecutivo del Club Granata Buonasera e benvenuto anche a lui Buonasera, buonasera a tutti E mentre invito la regia a far partire le immagini della gara con la bastese con Nappello andiamo ad analizzare quello che è successo sabato una partita che avete affrontato con il piglio giusto avete subito aggredito l'avversario così com'è nelle caratteristiche della squadra di Mosconi avete trovato il gol su palla inattiva avete cercato il raddoppio, lo avete trovato nell'arco della ripresa poi la parte finale è stata un po' palpitante perché quando si prende gol sul 2-0 e soprattutto non si segna il terzo qualche rischio si prende sempre, è stato così? Sì dai, abbiamo interpretato la partita nei migliori dei modi siamo scesi in campo con, come hai detto tu, col piglio giusto sappiamo che è la nostra caratteristica, è uno dei nostri punti di forza è chiaro che poi, lo sappiamo, in Serie D se le partite non le chiudi fino alla fine rischi poi, come è successo sabato che prendi un gol e puoi compromettere il risultato Sub entra a quel punto anche un po' di patema d'animo di fronte ad un avversario che fino a quel momento in campo non c'era stato moltissimo ma che ha preso inevitabilmente fiducia È proprio quello, dopo che per 70 minuti sono venuti su una sola volta che ci stavano facendo gol il primo tempo loro non ci hanno mai impensierito è chiaro che dopo prendi gol e ti subentra anche un po' di paura e rischi dopo di compromettere Abbiamo appena visto il gol del 1-0 Schiaroli di testa finalmente ha trovato il bersaglio dopo diversi tentativi a vuoto ma la palla gliel'ha disegnata su misura proprio in appello questa è una delle tue peculiarità le palle inattive già tre assist di cui due su calci da fermo oltre al gol, sempre da fermo, un magnifico di Pineto Sì, dai, diciamo che è una delle mie caratteristiche quindi ne proviamo tante in settimana come hai detto te, Schiaroli ci è andato vicino già da qualche settimana che meritava il gol è arrivato secondo me nel momento giusto in una partita importante come quella di sabato Avete incontrato una vastese che era ed è allenata da Giovanni Cornachini che è subentrato a Lucarelli da un paio di partite un allenatore di grandissima esperienza che la vastese potrà sicuramente valorizzare nel corso del proseguo della stagione per il momento una vastese che ha denotato qualche problema ma credo che più che altro sia stato il Fano ad evidenziare eventualmente queste difficoltà della vastese Sì, sapevamo che loro avevano cambiato allenatore già da una settimana sapevamo che era una partita difficile e quindi diciamo che ci siamo fatti trovare pronti Ecco il gol del 2-0 è arrivato su rigore e anche in questo caso lo zampino di Nappello c'è stato e come su una conclusione diciamo non irresistibile di Broso probabilmente sarebbe terminata anche a lato il portiere è intervenuto in maniera difettosa però in quel caso bisogna crederci e soprattutto bisogna spostare la palla nel momento in cui magari il portiere tenta di riprenderla Sì, dai, sono stato diciamo fortunato nell'arrivarci come detto il portiere lì l'ha lasciata lì e io gli ho lasciato il piede lì E ci vuole anche astuzia oltre che naturalmente convinzione in quelle situazioni dicevamo di una partita ipotecata a quel punto 2-0 la vastese chiaramente si è sbilanciata l'Alma ha avuto a disposizione spazi per portarsi sul 3-0 anche le occasioni e però appunto queste occasioni non sono state trasformate diciamo che nell'arco della stagione questo tema della concretezza che talvolta vi è mancato appunto è ricorso più di una volta, è così? Sì, dai, poi soprattutto quando i risultati non vengono a volte si tende un po' ad esasperare quello che non va è chiaro che per, come dico sempre io l'importante è arrivarci è chiaro che sabato o in una partita del genere tocca chiudere le partite quando hai la possibilità di chiudere le partite le devi chiudere però la cosa importante è comunque sia arrivarci, anche chi è entrato dalla panchina sabato comunque sia entrare e creare 2-3 palle goal non è semplice anche se gli altri si erano un po' sbilanciati però la cosa importante è crearle è chiaro che poi bisogna essere concreti perché alla fine metti che un calcio d'angolo una mischia o un'altra cosa una partita dominata pareggiamo la partita c'è da mangiarsi le mani dopo Sta emergendo un dato in questo girone di ritorno l'Alma vince sistematicamente in casa fuori invece a parte l'expload di Pineto stanno venendo delusioni è un caso o secondo te c'è qualche verità dietro anche il fatto di giocare di fronte al proprio pubblico può darvi quella sicurezza in più quella marcia in più? No, è chiaro che quando giochi in casa hai una spinta in più perché c'è una bella atmosfera in casa nostra abbiamo i nostri tifosi comunque giocare nel nostro stadio in casa nostra è sempre più stimolante ma sicuramente sarà stato un caso perché anche abbiamo perso a Trastevere dove abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo preso gol ma abbiamo giocato quasi sempre solo noi abbiamo fatto più di qualche palla gol anche lì a Trastevere è chiaro che poi dopo gli episodi a volte possono andarti a favore possono andarti contro e secondo me è stato solo un caso È un caso quindi anche a chi abbiate smesso di pareggiare? No, no, quello no però quello rientra più nelle caratteristiche di una squadra che comunque va sempre in avanti cerca sempre di fermare all'avversario anche a costo di sbilanciarsi È chiaro che noi facciamo un gioco dove si è un gioco dispendioso non facile perché comunque sia andare sempre all'attacco andare sempre a prendere gli avversari cercare sempre di fare di indirizzare la partita nel tuo modo di giocare tante volte ti porta ad essere un pelo più sbilanciato a pagare d'azio in qualche maniera Qui a fine partita raccogliete l'omaggio dei vostri tifosi più numerosi del solito in occasione di questa gara con la vastesa alla quale tenevano particolarmente qual è il rapporto con i tifosi tu hai ormai una vasta esperienza non solo in Serie D che realtà hai trovato da questo punto di vista a Fano? No, una realtà piacevole da vivere perché comunque sia i tifosi hanno entusiasmo ci trasmettono il loro affetto, calore non so come chiamarlo quindi soprattutto in casa ma anche fuori perché anche fuori sia a Trastevere che a... Sono sempre presenti Sono sempre presenti quindi diciamo che sentiamo la loro fiducia e il loro affetto diciamo Sei arrivato a stagione iniziata che spogliatore hai trovato? Che squadra hai trovato? No, è la prima volta che cambio io io non ho mai cambiato in carriera A stagione iniziale? A stagione in corso non mi è cambiato e ho trovato un gruppo fantastico di ragazzi speciali dove veramente conta più la squadra che l'io siamo lì sempre tutti insieme abbiamo piacere a stare insieme stiamo bene con lo staff diciamo che abbiamo un ambiente interno nostro veramente speciale che nel calcio si trova poche volte Andiamo a dare un'occhiata ai risultati dell'ultima giornata che è stata caratterizzata dalla nuova affermazione delle due di testa continua il duello tra Pineto e Vigor Senigaglia Pineto che è tornato immediatamente alla vittoria sul campo del Monteggio ma Vigor Senigaglia non perde colpi 2-0 al Trastevere che non è certo la squadra ultima arrivata anche se continua a pagare questa fragilità difensiva che è francamente eccessiva per una squadra che miri al massimo risultato come vedi questo duello è realmente un campionato aperto? Il campionato aperto sicuramente fino alla fine io ho visto il Pineto la Vigor Senigaglia non l'ho vista ancora giocare comunque sia sono due squadre che stanno dimostrando di avere dei valori importanti secondo me se la giocheranno fino alla fine sicuramente il Pineto non potrà pensare adesso che mancano dieci partiti di aver già vinto il campionato Tra gli altri risultati anche la conferma del Cinzia Alba Longa come realtà di vertice 2-1 sul team Nuova Florida che tra l'altro nelle ultime settimane va dato segni di risveglio così come fa spicco comunque il successo dell'Assemblea di Tese sul Tolentino per una duplice interpretazione Tolentino sempre più nei guai San Benedettese che nonostante i problemi societari riesce comunque in qualche modo a destreggiarsi e a tenersi fuori dalla zona a rischio ora la classifica con quest'alma che bussa ancora le porte dei playoff ma non riesce ad entrare è quello il vostro obiettivo realisticamente parlando? Il nostro obiettivo quello che ci diciamo è quello di non porci limiti noi dobbiamo giocare come facciamo spensierati come ci dice il mister animali da campo stare lì correre e cercare di dare fastidio a tutti è chiaro che se l'obiettivo penso di ognuno di noi è quello di fare sempre il massimo e qualcosa di più di quello che magari uno si aspetta Giovanni Orciani ha vissuto tante edizioni dell'Alma in vita sua le più recenti all'interno diciamo così della stanza dei bottoni è comunque vicino alla proprietà come valuta questa squadra rispetto anche alle squadre delle stagioni precedenti è una squadra che sta rispondendo alle vostre aspettative è un gruppo eccezionale perché di fatto quest'anno siamo partiti puntando sui giovani sull'allenatore che sa lavorare bene sui giovani ci abbiamo credo siamo in testa tutte le classifiche per l'utilizzo dei giovani e c'era anche una classifica che ci diceva che siamo la squadra che ha più autoctoni impiegati cioè ragazzi del territorio e questo era uno degli obiettivi che volevamo e oltre a questo stanno arrivando anche i risultati se noi un campionato a questi livelli non ce l'aspettavamo perché in realtà noi siamo partiti per salvarci e giustamente il mister dice non dobbiamo porci limiti perché il nostro gruppo può arrivare ovunque però è chiaro che noi siamo partiti per salvarci una salvezza tranquilla e la stiamo raggiungendo facendo tutti gli scongiuri del caso anche con con semplicità con facilità anzi come dicevi tu giustamente prima siamo lì anche a bussare non si sa mai che quella porta si apra alla fine del campionato al tifoso in generale piace vincere ma piace anche vedere una squadra che dà l'anima che si lancia sempre in avanti che non si accontenta caratteristiche che il Fano ha quasi sempre espresso in questo campionato anche da questo punto di vista credo che le attese siano state ripagate sì sì nettamente abbiamo avuto solo un periodo da pannamento che ci sta durante un campionato tra l'altro le attenuanti non mancavano le attenuanti non mancavano un piccolo passaggio a vuoto però la costante è quella la costante di una squadra sempre propositiva sempre all'attacco che insomma come chiedono i tifosi che la maglia quando escono la devono strizzare che il sudore l'hanno lasciato tutto lì partite sempre più difficili di qui alla fine della stagione perché molte squadre si sono rafforzate abbiamo detto del team Nuova Florida ma anche Roma City che pure ha inciampato domenica ha cambiato volto insomma nessuno ci sta a retrocedere e voi andate sul campo domenica prossima di una di queste squadre il Termoli che sembra aver invertito la marcia sì sappiamo che nessuna partita è facile nessuno ti regala niente e l'abbiamo visto con il Tolentino che sono venuti qua anche se il campo era un po' così però è un campionato dove tutti possono vincere e possono perdere contro tutti quindi sappiamo che domenica ci aspetta una partita difficile da affrontare bene con le nostre con le nostre caratteristiche e andare lì e cercare di portare a casa punti hai molti campionati di Dalle Spalle non solo come ti sembra il livello di questo girone di questo campionato io questo girone l'ho fatto col San Marino qualche anno fa l'ho ritrovato molto equilibrato è un girone molto competitivo e l'ho trovato bene diciamo c'è una grossa competitività cosa pensa in questo periodo il presidente russo lo chiediamo a Dorciani perché il pensiero è piuttosto articolato negli ultimi giorni c'è stata la polemica infuocata direi con l'amministrazione comunale per il caso dei militari che fa seguito al caso del Mancini e poi ci sono una serie di voci che si rincorrono e che sono state in qualche modo alimentate anche da qualche presenza sabato scorso allo stadio parliamo innanzitutto del tema dell'impiantistica come si è sviluppata questa vicenda del progetto di riqualificazione dei militari come si è sviluppata anche quella del recupero della gradinata se non altro del Mancini il problema che si pone sempre si verifica sempre è quello di far coincidere i tempi tecnici che può avere un'azienda e che può avere una società di calcio rispetto ai tempi tecnici che inevitabilmente ha un'amministrazione comunale questa vicenda si è diciamo giocata tra virgolette su due piani due tavoli diversi io ho giocato tra virgolette nel tavolo giuridico cercando con l'amministrazione di trovare il sistema giuridico migliore con il dirigente e con gli assessori poi c'era il tavolo del progetto del passaggio del progetto problemi si sono verificati perché io veramente ancora in concreto cosa è emerso da quella conferenza di servizi la problematica relativa a quella conferenza di servizi nel dettaglio non li conosce con lui conosco li conosce Franco Pantaleoni che del comitato è quello che segue la parte tecnica il discorso è nato quando era uscito anche il presidente in un'intervista nei suoi giornali quando praticamente c'era questa esigenza assoluta da parte della nostra società di avere a disposizione un impianto per il settore giovanile soprattutto un impianto in sintetico anche a beneficio della prima squadra che per settimane si è allenato sul fango anche a beneficio della prima squadra che per certi periodi non riesce ad allenarsi o si allena sul fango quando confrontandoci con l'amministrazione abbiamo saputo che loro avevano l'amministrazione aveva in qualche modo aveva la possibilità di impegnare una certa somma per la gradinata perché giustamente la gradinata deve essere rifatta perché insomma è inagibile ormai da troppo tempo però abbiamo trovato un compromesso per dire si potrebbe anche eventualmente destinare una parte della somma per la gradinata facendone in questo momento una metà ci potrebbe anche bastare in questa fase della storia della nostra società e magari una parte di somma che siete riusciti ad accantonare a investirla su questa operazione dei militari perché in quel campo sovrapponendo poi l'investimento della proprietà dell'alma sovrapponendo chiaramente l'investimento della proprietà dell'alma perché l'investimento del comune secondo la strada che abbiamo trovato per arrivare in porto in termini più rapidi possibili perché se un investimento del comune è superiore al 50% a quel punto diventa un investimento di denaro pubblico quindi gestito dal comune con tutto ciò che comporta i bandi invece con un investimento che rimanga inferiore al 50% la pallina può passare diventa un contributo la pallina passa alla società che ha i tempi più rapidi per l'esecuzione dei lavori è chiaro che c'è tutta la fase di approvazione del progetto perché lì è un posto particolare c'è la statale c'è la ferrovia il progetto prevede la realizzazione di due campi un sintetico naturale con tutta l'illuminazione l'illuminazione a ridosso della ferrovia e quindi conferenza di servizi diversi enti da mettere d'accordo si può recuperare però il rapporto io credo che insomma c'è sempre stata massima collaborazione da questo da questo punto di vista io perlomeno per quel che mi riguarda a studiare le soluzioni col dirigente c'è stata massima collaborazione eccetera ci sono anche altri due piccoli progetti che per accedere un bando ai bandi regionali che c'è adesso che dà dei contributi per sistemare Centinarola oppure per sistemare il campo del Ponte Sasso d'accordo col Ponte Sasso perché quello è gestito quindi credo che la disponibilità l'ha sempre dimostrata il Comune io non credo che anche in questa fase la farà venire meno questo sicuro L'investimento sulla riqualificazione dei militari suonava come indizio della volontà del Presidente russo di insistere in questa sua avventura a Fano ora il fatto che si sia almeno al momento chiamato fuori fa supporre al contrario una sua volontà di disimpegno che peraltro lui è escluso volontà di disimpegno che in qualche modo qualcuno ha voluto certificare con la presenza a Fano in occasione della partita con la Vastese di personaggi che Giovanni Orciani conosce in particolare Robert Chuis che è proprietario del Cesene si dice voglia dirottare i propri interessi anche su una realtà di Serie D anche se a quel punto si porrebbe il problema di un Presidente o proprietario di una società di Serie C che investe anche su una società di Serie D e siamo alla categoria sotto come stanno le cose Allora questa è l'occasione per fare un po' di chiarezza perché adesso stanno venendo fuori la gente sta facendo dei film assoluti e anche io quello che ci tengo come dicevi prima io di fatto a livello dirigenziale questa è la mia nona stagione la prossima potrei battere il Presidente Gabellini che aveva battuto e quindi io non ho mai fatto in queste nove stagioni ci sono tutti i Presidenti mai fatto un passo oltre non metto una bocca nella parte tecnica perché non mi compete eccetera e quindi no perché qualcuno sembra che io per la conoscenza che ho che poi per l'altro è una conoscenza relativa nel senso che Robert Hewis vive a Pesaro da più di vent'anni e quindi come lo conosco io lo conosce tantissime persone di Pesaro e infatti un primo incontro che mi fa riferimento anche oggi il Presidente c'è stato che io neanche lo sapevo che era da quello che ho capito da quello che mi hanno riferito si basava su due diciamo su due fasi diverse due ipotesi diciamo di lavoro cioè l'esigenza loro che dicevi te è di cercare una Serie D allora il Cesena nelle intenzioni è proiettato alle Serie Superiore ieri c'è stata una partita da Serie A in buona sostanza tra la Reggiana e Cesena quindi loro puntano alla Serie Superiore ma al di là del Cesena che è una realtà a parte il fondo che è di cui fa capo uno dei soci diciamo di cui fa capo Robert Lewis è anche interessato in una realtà di Serie D e infatti quell'incontro pare che fosse sfumato in ragione del fatto che il Presidente cercava un partner in qualche modo e loro cercavano quindi si sarebbero risentiti non si sono più sentiti perché erano su due piani diversi come ho detto come lo conosco io Robert da vent'anni tantissima gente lo conosce perché viva Pesaro quindi fa capo a questo fondo americano che si occupa il suo core business è quello di mettere in relazione aziende americane che vogliono investire in Italia o in Europa e viceversa e lui diciamo è qui a Pesaro e lo conoscono tutti è successo che durante il periodo di Natale in buona sostanza il Presidente era uscito con un altro sempre diciamo probabilmente il contrasto adesso non ricordo bene ma tanto gli ulici contrasti erano con l'amministrazione comunale in ragione delle problematiche relative a questo campo dicendo che voleva uscire pubblicamente era uscito col fatto che volesse uscire quindi io incontrai peraltro alla VL a partita di paracanestro Robert Hewis e parlamo di questa cosa in generale gli ho detto ma voi siete ancora interessati il Presidente e io ne parlai col Presidente e lui dice sì io ci ho parlato vediamo ma però non mi sembravano convinti eccetera ma dopodiché io sono andato avanti perché questa cosa andava sondata in qualche modo poi a un certo punto il Presidente dice no vabbè voglio continuare non mi interessa più di continuare voglio continuare eccetera Robert Hewis comunque in occasione della scorsa partita siccome venivano i soci dall'America perché c'era la partita poi con la Reggiana eccetera è voluto venire a Fano vedere Fano vedere la realtà di Fano era già capitato lui lo voleva fare vedere i soci eccetera ed è venuto lì però insomma io quando mi sono mosso mi sono mosso perché c'era un'apertura da parte del Presidente in questo senso quando il Presidente ha richiuso io richiuso non posso vendere una cosa una cosa che non ho questa è insomma la situazione ma è il fatto che loro sono intenzionati a comprare una serie D che chiaramente anche se al tifoso verrebbe da pensare ok siamo eventualmente contenti che un imprenditore di questo livello possa acquisire una realtà di serie D ma se acquisisce un Fano non può essere con l'obiettivo di trattenerla in serie D perché c'è il Cesena in serie C poi vabbè mettiamo il carro avanti ai buoi non è il caso la mentalità dell'americano è che fa gli sport per vincere non fa gli sport per non vincere quindi tirarle su tutte e due questo è pacifico farle progredire entrambe se arrivano su tutte e due probabilmente adesso parlo del Fano perché è il Fano ma forse la Vispeso non è forse la Vigor Senigallia perché poi tra l'altro cercano la D e di D di serie D di società di serie D ce ne sono forse il Senigallia in modo senso l'obiettivo loro è di sviluppare fare un discorso ma ripeto c'è lo stesso Napoli che sta vincendo il campionato alla grande c'è il Bari in serie B che sta facendo un gran campionato ormai in un certo senso chi investe sul calcio investe su grande scala soprattutto per investire sui giovani per farli naturale le famose seconde squadre c'è le squadre come la Juventus che se la può permettere di fare chi non se la può permettere fa ragionamenti di questo tipo ma punta si punta a crescere in un certo senso loro secondo l'idea loro il Cesena è proiettato nelle serie superiori insomma scopriremo vivendo però voglio dire di fatto di fatto adesso in questo momento le condizioni non ci sono perché loro cercano una D abbiamo fatto comunque chiarezza su quella che è la situazione però il Fanno non inventa e loro sono venuti a vedere la realtà non perché dovevano incontrare nessuno né certamente perché io gli dovessi vendere niente perché io non posso vendere assolutamente niente benissimo ringraziamo Giovanni Orciani componente del comitato esecutivo dell'Alma di Juventus Fano ringraziamo anche Umberto Nappello attaccante della squadra Granata noi torniamo fra qualche istante restiamo al calcio ma all'altra metà del calcio quello declinato al femminile che si sta sempre più emancipando in Italia che sta trovando una diffusione significativa anche sul nostro territorio e il quartier generale è Santa Maria dell'Arzilla vedremo di capire perché e come con Raffaella Manieri ex azzurra responsabile della Raffaella Manieri Academy e con Alice Montanari che è capitana della Pink Arzilla Under 17 buonasera e benvenute buonasera a tutti dicevamo di un calcio femminile che si sta emancipando credo che sia l'espressione più appropriata anche in Italia dove recentemente è stato compiuto questo grande salto nel professionismo Raffaella Manieri ha seguito direi da piccolissima questo percorso potremmo far partire le immagini che ripercorrono la sua storia una passione per il calcio nata praticamente da subito sì diciamo che mia mamma racconta sempre che ho preso il mio primo pallone a due anni e poi da lì ho semplicemente chiesto a cinque anni di poter entrare a far parte della poi sportiva Arzilla e ho iniziato a giocare con i miei amici maschietti e da lì poi piano piano ho scoperto anche il mondo femminile quindi sono riuscita poi a fare la mia carriera anche al di fuori dal territorio dove c'era la possibilità perché come abbiamo appena detto in questo momento siamo l'unica realtà insieme a altre pochissime però è stato un percorso bellissimo perché è la mia passione quindi già la prima fortuna quando ero piccolina era poterlo fare perché non c'erano tanti sbocchi immagino fossi una mosca bianca o qualcosa del genere esatto quindi si ricordano tutti perché ero l'unica bambina nel territorio che andavo a giocare con i maschietti però se tornassi indietro lo rifarei sicuramente immagino ci sia voluta anche molta tenacia sì assolutamente ci sono stati periodi quando ero piccolina racconto sempre io non vedevo la difficoltà la diversità poi ci sono stati dei momenti dove mi accorgevo che venivo riconosciuta per la coda e allora ho provato a tagliare i capelli per mascherarmi come gli altri con i miei amici e da lì è nata l'etichetta maschiaccio quindi pensavo di aver fatto una cosa positiva invece da lì è partita la mia etichetta che poi piano piano quando sono entrata nel contesto femminile si è sciolta una ostinazione che è stata ampiamente ripagata dai risultati ricordiamo brevemente il tuo palmarès cinque scudetti distribuiti fra Bardolino e Torres che adesso magari dicono poco ma all'epoca erano realtà centrali nel calcio femminile italiano e poi due titoli di Germania con il Bayern come si è sviluppata questa carriera quando hai avuto la consapevolezza che nel calcio femminile avresti avuto un ruolo comunque importante io ho avuto la mia prima convocazione a 15 anni ho iniziato a fare gli stage con la nazionale poi ho preso il primo volo sono andata in Canada proprio perché mi hanno convocata ma una volta c'era solo l'under 19 quindi dentro subito da piccolina dentro un'under 19 quindi avevo anche ragazze un po' più grandi da lì andando di là sono andata in Canada di là mi sono trovata siamo atterrate c'era gente che ci aspettava pensiamo che nel Nord America e soprattutto qui da noi nel Nord Europa il calcio femminile è una realtà ormai consolidata da anni assolutamente quindi c'era già lo sviluppo del calcio femminile anzi in America era proprio il primo sport al femminile qui mi sono trovata tante bambine che giocavano tanti spettatori tanta accoglienza a firmare autografi che non sapevo neanche io chi fossi e da lì ho capito che comunque sia ci sarebbe potuta essere una possibilità anche per me di sognare di diventare una calciatrice professionista abbiamo ripercorso brevemente le tappe della tua carriera ma vuoi approfondire un attimo cosa ha significato il Bardolino poi la Torres e poi il salto in Germania sì allora adesso mi fa ridere perché ho delle ragazze che vengono da Senigallia io da piccolina andavo a Senigallia quindi ho fatto 5 anni dai 15 ai 18 no scusa dai 13 ai 18 a Senigallia e poi dopo ho preso il volo ho fatto 2 anni a Torino è stato il primo periodo dove io mi sono staccata dagli amici e dalla famiglia quanto è stato difficile? moltissimo diciamo che all'inizio soprattutto il contesto che ho trovato non era un contesto da ragazza di 18 anni era già un contesto adulto ci si allenava la sera al freddo stare a vivere da sola comunque arrangiarti da sola era la prima uscita dopo l'ho pagata perché ho avuto un infortunio quindi ecco sicuramente poterle preparare oggi mi piace mi piace perché posso cercare di garantire a loro una tutela poi da lì ho fatto Bardolino quindi la prima Champions League eravamo una squadra titolata siamo arrivati ai quarti di semifinale e ancora oggi l'unica squadra che ci è arrivata italiana è iniziato il percorso anche nazionale quindi tutti gli europei mondiali che ho fatto con l'Andra 19 e poi con la prima squadra poi da lì ho scelto la Torges perché era diciamo l'ultima strada in Italia di una squadra che potesse lottare per il titolo e sono stati 5 anni bellissimo ho conosciuto un territorio diverso la Sardegna mi sono innamorata persone veramente che mi hanno accolto subito a braccia aperte donano quello che hanno loro donano e poi la squadra vincente quindi esperienze che racconterò o che posso raccontare si prendeva l'aereo per venire a giocare di qua quindi una volta ogni due settimane si prendeva l'aereo quindi era mai diventato come prendere il pulma poi da lì grazie a un europeo sono stata vista dai responsabili del Bayern Monaco e da un'altra squadra del Francoforte che in quel momento era prima mi hanno chiamato nel frattempo stavo per andare a Brescia ma mi arriva la chiamata quindi ti sdico subito chiedendo al presidente se potessi umilmente fare questa esperienza e da lì è nato il percorso in Germania nel frattempo abbiamo visto e continuiamo a vedere delle immagini che appunto fissano i vari momenti della tua carriera diverse di queste immagini si riferiscono poi anche alle celebrazioni dei titoli conquistati in Germania e ti abbiamo visto ritratta accanto a Neuer piuttosto che a Rummenigge quanto è stato diverso rispetto all'esperienza che avete sviluppato in Italia andare in Germania e frequentare quell'ambiente ricordiamo poi tra l'altro il Bayern in realtà leader anche in campo femminile ancora oggi insieme al Vosburgo sì assolutamente io il primo impatto è stato molto molto duro perché mi sono trovata davanti delle professioniste quindi avevo già delle atlete e non in Italia perché il professionismo lì c'era già c'era già e quindi cercare di capire che cosa volessi dire innanzitutto anche se io me lo sentivo dentro quindi la nostra professionalità era quando si andava con l'Italia quindi già lì venivamo trattati comunque da professionisti d'atleta avevamo uno staff al completo la struttura la casa il campo tutto quello che era che è quello che ti serve poi per fare l'atleta io dico sempre la differenza del professionismo è che diventi un atleta è che tu lavori semplicemente per una performance quindi costantemente lo stile di vita cambia quindi la nutrizione il riposo la fisioterapia l'allenamento a un certo punto io sono arrivata là facevo tre allenamenti al giorno in Italia capitava che ne facessi due ma tra l'altro credo che anche in campo maschile la Germania si distingua per allenamenti particolarmente severi esatto quindi mi sono trovata i portieri che andavano più veloci di me che per me è stato uno shock quindi da lì ho capito cosa stessi incontrando ci ho messo sei mesi ad adattarmi anche alla parte soprattutto fisica e dopo di che ho avuto una chance me la sono presa e ho buttato tutta me stessa perché era dentro fuori quindi non potevo averne altre perché il ruolo mio era anche difensore e difensore sappiamo benissimo che nel momento in cui va bene la difesa non si cambia mai quindi è anche più difficile entrare in gioco quindi ho preso questa questa occasione questa opportunità ma l'avevo preparata quindi nel momento in cui ho saputo che mi avrebbe messo in campo mi sono messa a fare le autoanalisi da sola tutta la settimana studiando perfettamente chi incontrassi perché poi era il Bosburg che in quel momento aveva vinto il triplete quindi il massimo che potessi incontrare ma era quello che mi serviva per capire se potevo stare a livello a quel livello e potevo essere una protagonista come loro semplicemente allenata come loro e da lì mi sono tolta tante soddisfazioni poi è arrivato l'anno dopo il Mastershaft quindi i festeggiamenti aver conosciuto una realtà confrontarti con i calciatori professionisti con lo staff professionista poter parlare confrontarti capire che cosa può aiutare a fare una differenza a quel livello perché è il particolare poi che ti cambia e dover star sempre sul pezzo questo lo dico sempre perché la Rosa è di 27 ne giocano 11 e come è successo a me poi il terzo anno mi sono fatto trovare impreparata una volta e da lì sono finita in panchina invece della tua storia in azzurro quali sono le tappe più significative il mondiale Under 19 che è stato il primo mondiale dell'Italia in Thailandia sono andata è un bellissimo momento dove anche lì insomma quando uscivamo dall'Italia avevamo un contesto che esisteva quindi un ritorno anche mediatico e ti vediamo qui ritratta in una formazione dell'Italia in cui figurano atlete che ancora oggi sono titolari della Nazionale Azzurra tra tutte Sara Gama ma non solo lei esatto in cui sono veramente in stretti rapporti perché abbiamo costruito un percorso insieme e abbiamo portato avanti questa lotta per cercare di avere un po' di diritti un riconoscimento un riconoscimento e semplicemente per cercare di sopravvivere perché si trattava di quello nel senso che noi avevamo una vita professionista e professionale con gli stessi impegni ma ovviamente uno status da dilettante uno status da dilettante quindi comportava tante problematiche che dovevi affrontare ovviamente a oggi di come sono servite perché sono tutte cose che ti rafforzano piuttosto di trovare la zona di comfort invece il discorso di imparare a conquistarsi le cose è stato importante e sono contenta se noi possiamo essere le iniziatrici per il futuro delle giovani di domani e avere anche loro la possibilità di farlo come professione quindi lavorare all'interno dell'ambiente calcio togliersi le loro soddisfazioni e farci sognare l'inserimento l'introduzione del professionismo in Italia di seguito anche all'interesse e agli investimenti di grandi club che prima non c'erano è arrivata la Fiorentina per prima poi è arrivata la Juventus e quindi di seguito negli anni poi io infatti ho finito la carriera al Milan sono arrivate gli altri club e questo cosa ha comportato ha comportato a oggi a trovarci delle ragazze giovani che sono atlete rispetto a noi che eravamo magari avevamo ancora un corpo che si doveva formare quindi strutturare e il risultato lo vedi dalla competitività che noi abbiamo anche a livello internazionale che ancora siamo veramente indietro a livello numerico quindi abbiamo 36.000 tesserate tra under 18 e adulte e all'estero ci troviamo l'America con un milione e sei ma tutte le nostre vicine di casa le nordiche l'Inghilterra hanno tutte più di 100.000 tesserate quindi capite che quando noi ci proponiamo nel territorio europeo mondiale abbiamo sempre una selezione che è inferiore quindi qualsiasi risultato oggi viene viene perché ci sono dei valori un forte gruppo ma la competizione a livello della scelta dell'atleta è diverso però sarà un'opportunità anche per loro per portarci a casa qualche titolo dal campo che hai continuato ovviamente a frequentare alla regia diciamo così con questa esperienza della Raffaella Magneri Academy con il legame con la Pink Arzilla spiegaci come funziona questo intreccio come si sviluppa questa metodologia e quali sono i risultati che state portando a casa allora siamo arrivati a un punto io e Francesco Marcucci che è responsabile del progetto io ero giocatrice calciatrice lui era quello che faceva partire questo progetto quindi si è trovato delle bambine che arrivavano ma di età diverse quindi non si è mai riuscito a fare una categoria unica quindi abbiamo deciso di provare a rivedere la metodologia e essere inclusivi per far sì che una bambina potesse assolutamente avere la stessa opportunità in quel momento con una squadra maschile un po' come è stato il mio percorso quindi se l'ho fatto io ho detto oggi lo può fare anche un'altra ragazza da qui iniziano ad arrivare i primi risultati quindi abbiamo dato delle ragazze a Cesena a Iesi nel territorio e finalmente l'anno scorso siamo riusciti a fare un under 15 da qui abbiamo detto che siccome ci hanno detto che le ragazze escono molto preparate da questo tipo di percorso creiamo un'academy ma un'academy il nome viene perché in quel momento ero quella visibile quindi sappiamo benissimo che immediaticamente riconoscono la persona che magari ha più visibilità e abbiamo creato una sorta di consulenza l'academy è la metodologia che noi applichiamo nel format Pink Arzilla quindi da un format da una struttura che Santa Maria d'Arzilla che ha sempre incluso e accolto le bambine da quando io sono nata a dopo perché sono sempre arrivate a oggi ci troviamo a avere un under 15 e un under 17 in un paesino di 600 abitanti quindi abbiamo detto se siamo riusciti a farlo noi possiamo essere iniziatori andare negli altri paesi nelle altre regioni nelle altre società ad aiutare le società a includere le bambine per aumentare noi le tesserate quindi non reclutiamo noi come academy le bambine ma andiamo in giro a raccontare la nostra esperienza quindi cercare di risolvere tutte quelle criticità e problematiche che abbiamo vissuto in primis che vivranno gli altri nell'inclusione di una bambina nel contesto maschile ma che è possibile perché siamo la realtà oggi ci dice che i nostri risultati ci hanno portato poi a essere riconoscibili anche nel nazionale quindi questa promiscuità bambine e bambini come viene vissuta oggi anche rispetto a come veniva vissuta prima allora diciamo che siamo una realtà irreale perché oggi quando vieni a Sant'Enera Arzilla sono tutti pronti dirigenti allenatori bambini bambine genitori quindi mascheriamo un po' quali sono veramente invece le difficoltà che si trovano nelle altre paesi quindi all'inizio c'è sempre questo sguardo un po' questi occhi diversi diffidenti quando vedono entrare una bambina o quando la vedono addirittura giocare quindi i primi commenti erano perdiamo perché c'è una bambina in campo se gioca una bambina porto via mio figlio esistono quindi non possiamo non dire che non esistono questo non vuol dire che si può attraverso un'esperienza raccontare una storia e fargli capire che poi alla fine l'unione del bambino e la bambina come a scuola può essere una fortificazione loro a livello di rispetto a livello sociale e anche un arricchimento è un arricchimento e poi a livello regolamentare la federazione prevede che le bambine e i bambini possono giocare insieme dai 5 ai 15 anni ma oggi la federazione investe e dice alle società di lavorare sul misto quando prima non si poteva quindi stiamo crescendo quindi viene accolta e se lo accoglie anche la federazione vuol dire che siamo sulla strada giusta sulla strada giusta siete perché con la Pinker Zilander 17 siete arrivati alla fase interregionale dopo aver dominato quella regionale ora il debutto nella fase interregionale non è stato felicissimo domenica è arrivata la prima sconfitta stagionale con la Jesina dopo 16 vittorie e 2 pareggi Alice Montanari capitana di questa Pinker Zilander 17 ti chiedo fondamentalmente perché hai scelto il calcio e quali differenze hai notato rispetto ad altri sport che magari le tue coetanee sono portate a privilegiare ma io ho fatto vari sport però dopo non erano quelli giusti per me poi andavo sempre a vedere gli allenamenti di mio fratello e il suo mister mi ha chiesto se volevo provare da lì ho iniziato e non ho più smesso perché mi è piaciuto fin da subito e da lì poi è nata la passione e ti trovi a tuo agio anche ti sei trovata a tuo agio anche a sviluppare questo sport insieme ai bambini e ai ragazzi all'inizio no perché come ha detto Raffaella ci sono sempre stati quei commentini che un po' pesavano a una bambina di piccola età e però dopo ho fatto diciamo ho dimostrato le mie caratteristiche e la cosa è andata sempre a migliorare e mi sono sempre trovata meglio con i ragazzi anche adesso il tuo ruolo? io sono difensore centrale difensore centrale di una Pinker Zilander 17 possiamo anche vedere alcune immagini di una partita in cui avete fatto valere i diritti del più forte quella con il Teramo invito la regia a mandare in onda appunto anche quelle immagini mentre vengono proposte anche quelle relative all'attività che viene svolta all'interno della Pinker Zilla che appunto è ora impegnata in questa fase interregionale in cui dovrete confrontarvi con realtà che si chiamano Fiorentina Milano e se vogliamo anche Sassuolo perché il Sassuolo ormai ha piena dignità non soltanto nel calcio maschile ma anche nel calcio femminile insomma una bella responsabilità molto e come gruppo che gruppo siete c'è grande unità immagino grande fiducia anche nelle vostre possibilità siamo molto unite anche perché siamo ragazze che giochiamo insieme da 7-8 anni ormai quindi il gruppo si è molto unito ed è una cosa molto bella ragazze che provengono dalle varie realtà della provincia mi pare e non solo Raffaella sì abbiamo sacrifici di tanti genitori che ce le portano quindi intanto li ringrazio perché comunque vuol dire che credono in noi in quello che stiamo facendo per le loro figlie e i loro figli perché arrivano anche i ragazzi e stiamo parlando di Urbino Urbania Senigallia Marotta San Costanzo arrivano da tutte le parti Fano Pesaro quindi siamo riusciti a dare un polo importante dove a oggi è riconosciuto ma grazie ai risultati delle ragazze e dei genitori che poi è un passaparola diventa semplicemente questo non mi piace mai andare a bussare alla porta diciamo così io so che sono lì posso dare la mia esperienza la posso mettere a loro disposizione quindi chi vuole ci sceglie noi siamo in continua crescita crediamo tantissimo nel misto nel mix team quindi arriveremo a dare anche delle statistiche magari che le persone si aspettano proprio della maturità che esiste tra la ragazza e la ragazza quindi parliamo di dati scientifici che sono sempre quelli che poi ti aiutano a spiegare la veridicità di quello che tu stai che stai facendo stiamo crescendo stiamo ecco tanta strada è stata fatta ma quali sono i prossimi step? io dico sempre che noi siamo partiti da niente quindi possiamo sempre solo che avere il meglio quindi siamo partiti dalla bambina e ci siamo trovati oggi a avere due squadre femminili quello che io mi auguro è che attraverso una società professionistica del territorio che qualcosa è nato ringrazio anche la Vispeso per quest'anno perché è venuta a supporto di questo progetto quindi 5 ragazze loro fanno parte dell'anno 17 femminile e abbiamo bisogno di una struttura per poter arrivare a competere contro grandi realtà grandi club come Milan Sassuolo Fiorentina noi è un percorso di costruzione di esperienza loro hanno una grandissima fortuna di divertirsi di goderselo di viverselo perché sono guadagnate e di confrontarsi con le loro parietà quindi deve essere semplicemente un riconoscimento di qualcosa che ti sei conquistato e che ti fa capire cosa sei veramente qual è la tua forza e quella che sarà poi la tua prospettiva quindi se sei arrivato a giocarci contro puoi anche sognare di andarci a giocare in quelle squadre Alice Montanari rappresenta la squadra ed è doveroso che saluti le sue compagne do un bacio a tutti i miei compagni e compagne e un saluto benissimo grazie Raffaella Magneri grazie ad Alice Montanari noi ci risentiamo tra qualche istante chi in vita sua non ha preso almeno una volta in mano un frisbee beh non tutti quelli però che hanno preso in mano un frisbee si immaginano che il frisbee sia uno sport è uno sport che ha una sua dimensione una sua dignità in giro per il mondo e soprattutto in certe zone del mondo ma che trova un'espressione molto compiuta e anche che ha una sua storia anche a Fano abbiamo per parlare di questa realtà ospite in studio questa sera Giovanni Bottegoni presidente dell'Ultimate Frisbee Fan Association buonasera e benvenuto buonasera grazie ed Enrico Vincenzi che di UFFA questo è il curioso acronimo direttore sportivo Enrico Vincenzi buonasera grazie per essere con noi dicevamo di questa storia che è nata ormai più di vent'anni fa anche se chiaramente si tratta di una di quelle discipline di nicchia delle quali si parla raramente per cui non tutti sanno di questa storia e non tutti sanno di che sport si tratti allora vogliamo spiegarlo Bottegoni sì è uno sport di squadra che si gioca in un campo rettangolare si gioca in set in un campo di oltre 110 metri per 30 e lo scopo del gioco è completare un passaggio nell'area di meta avversaria e quando si ha il disco in mano non si può correre si può solo fare piede perno quindi è uno sport che coniuga una tattica importante ha dei movimenti in velocità è spettacolare da vedere e soprattutto divertente da praticare quindi è un si colloca tra in un certo qual modo la pallacanestro di cui ricorda i movimenti del piede perno ha un concetto più tipo football americano o rugby ancorché non è uno sport di contatto è uno sport che si connota anche per lo spirito di cui è permeato perché vale la pena sottolinearlo perché si tratta di un esempio estremamente raro qui non c'è un arbitro gli atleti si dirigono da soli vero Vincenzi? Assolutamente la peculiarità del nostro sport è proprio quella della mancanza dell'arbitro che esiste in veramente pochi sport per cui l'importanza della risoluzione dei conflitti fra i giocatori si vede proprio dentro il campo perché quando accade un fallo perché ci sono i falli è importante dirlo perché molte persone possono pensare che non ci sono i falli ma è importante dire che ci sono i falli ci sono le chiamate che si risolvono fra i giocatori nel caso in cui la chiamata non venga risolta il disco torna indietro e si riparte dalla situazione di partenza e quindi si ha un tempo da rispettare un tempo di 10 15 20 secondi entro i quali i due giocatori sono portati a parlare a rivolgersi solitamente in italiano ma anche in inglese perché ricordiamo appunto che è uno sport che si gioca in tutto il mondo per cui è importante che conoscere dei segnali fisici che ci sono per fare le eventuali chiamate Fairplay dunque elevato al cubo ma chi pratica questo sport si presenta già attrezzato da questo punto di vista immagino assolutamente c'è un regolamento da studiare poiché appunto ci sono delle chiamate sia gestuali che proprio vocali che vanno discusse e quindi ci sono delle terminologie da faccio un esempio la chiamata di pick e quando due giocatori si scontrano il gioco si ferma e quindi le persone sono portate a tornare nella situazione in cui il gioco insomma verso il quale il gioco non si sarebbe fermato e come questa ce ne sono tante altre c'è un regolamento e un test da superare per tutti quelli che si avvicinano a questo sport è uno sport per tutti o bisogna avere delle caratteristiche fisiche particolari? Allora è uno sport per tutti ci tengo a dirlo dagli 8 e 9 anni possono giocare tutti noi insomma abbiamo la nostra squadra con l'età che variano dai 10 fino ai 45 e anche 50 anni dà modo di fare sport a tutti perché le uniche cose necessarie sono un campo un disco e la possibilità di insomma giocare all'interno del campo Quali invece le doti bottegoni che permettono comunque di emergere in questo sport? Ma è sicuramente uno sport molto atletico quindi basti pensare alla dimensione del campo e al numero di giocatori che come hai detto sono solo 7 è un gioco molto poco frammentato e quindi diciamo le caratteristiche oltre a quella che possiamo chiamare la prestanza fisica che deve essere però coniugata ad una buona tecnica tecnica che peraltro mi piace sottolineare inizialmente non è troppo difficile da apprendere cioè basta un tempo relativamente breve per riuscire già a togliersi qualche soddisfazione ad eseguire dei lanci neanche banali poi chiaramente la curva di apprendimento diventa più ripida man mano che il tempo passa però inizialmente iniziare a giocare mettersi in campo è veramente facile A chi è venuta l'idea 20 anni fa e più di introdurre questa disciplina a Fano? Io c'ero quindi sono titolato a parlarne eravamo un gruppo di ragazzi all'epoca diciamo vedevamo cominciavamo a vedere la fine degli studi universitari alcuni di noi avevano provato la disciplina a Bologna e abbiamo iniziato a giocare così per per divertimento per puro scopo ludico e di lì a pochissimo è nata subito l'idea di farne qualcosa di più e abbiamo fondato appunto un'associazione sportiva dilettantistica è diventata però presto una cosa molto seria mi parli capire assolutamente sì nel senso che la cosa innanzitutto ha preso piede e devo dire inaspettatamente nel senso che il feedback l'entusiasmo che abbiamo ricevuto indietro è stato non ho problema a dire inizialmente inaspettato e onestamente abbiamo anche iniziato fin da subito a nel nostro piccolo inizialmente a conseguire qualche traguardo importante che quindi ha galvanizzato l'ambiente ha diciamo continuato a mantenere alto l'interesse dopo la la prima fiammata iniziale sì perché il palmarès non è affatto trascurabile mi pare no tutt'altro in realtà diciamo un'associazione come la nostra vanta diversi titoli italiani in particolare il più recente del 2016 nel campionato women siamo stati diverse volte campioni nella categoria mixed abbiamo un secondo posto agli europei per club abbiamo vinto vari tornei prestigiosi in particolare il tradizionale torneo di ginevra più altri diciamo altre competizioni altri sport minori aggiungo anche che molti dei nostri atleti hanno fatto parte delle rappresentative nazionali hanno alcuni militanti proprio nella squadra di fano altri formatisi nella scuola fanese e alcuni dei nostri tecnici hanno allenato e allenano le selezioni nazionali in una puntata in cui abbiamo trattato anche di calcio femminile è importante credo sottolineare il fatto che ci siano formazioni miste all'interno del frisbee assolutamente questa è un'altra peculiarità del nostro sport che dà modo ai ragazzi e le ragazze di giocare insieme noi abbiamo visto che a tutti i livelli e soprattutto a tutte le età questa cosa è molto importante perché riesce a creare un gruppo particolarmente coeso anche al di fuori del campo cosa non insomma non poco importante per uno sport e per un'associazione sportiva dilettantistica come la nostra come diceva Giovanni alcuni dei nostri titoli più importanti sono arrivati proprio con la formazione Mixed che ha vinto i campionati italiani per tre volte di cui andiamo particolarmente fieri nonché un secondo posto a livello europeo che insomma ci fa sempre piacere ricordare a distinguervi anche i nomi abbastanza bizzarri devo dire delle vostre formazioni ora la formazione maschile praticamente da sempre si chiama Spacca Madoni la formazione femminile credo con riferimento alla mitologia è quella delle mirine anche qui come è nata l'idea Bottegoni allora beh il nome della squadra Open diciamo è assolutamente attinge dal contesto fanese del quale noi ci siamo orgogliosi insomma di essere portavoce ed è nata proprio istintivamente nella misura in cui agli albori diciamo all'inizio del periodo di cui parlavo prima il gioco era un po' come dire improvvisato era un po' ancora rudimentale in forma artigianale in forma sì molto artigianale e quindi ecco il commento fu tra tra di noi dice beh signori se effettivamente vogliamo cimentarci in un torneo all'epoca si paventava l'ipotesi di partecipare già ai campi campionati italiani di beach ultimate di alba adriatica nel 2001 e l'idea perché ricordiamo uno sport che si pratica anche su spiaggia sì ha anche la versione beach e dice beh sicuramente se vogliamo presentarci lì e non farci ridere dietro bisogna smetterla di giocare così a spacca madoni c'è stato proprio un lampo una lampadina che si è accesa e quello da quel momento in poi è rimasto il nome della squadra maschile e invece le mirine? allora in realtà qui diciamo ammetto di non aver partecipato alla selezione nel senso che è una diciamo un nome che viene fuori all'interno dello spogliatoio per dire così però ritengo che appunto sia un gioco di parole in parte mitologico in parte attinge proprio all'idea del mirino cioè all'idea di riuscire a mettere il disco sistematicamente nel punto più sbagliato quindi è un po' anche autoironico diciamo e gioca un po' sull'equivoco e poi la formazione del mix appunto quella titolata che è i croccali anche qui attinge appunto un po' dal contesto fanese quindi da cui l'idea appunto del gabbiano poi ci sono questi under 17 che sono invece gli angry gulls questi gabbiani arrabbiati come mai sono così arrabbiati? ma perché anche qui diciamo è più un auspicio che sta direttamente nel nome di distillare in questi ragazzi in maniera sana però la grinta la competizione insomma quella sana voglia di vincere perché diciamo noi ecco anche qui mi piace sottolineare l'importanza fondamentale dello spirito del gioco dell'evitare contestazioni ma rimane uno sport fortemente agonistico cioè noi andiamo sempre in campo con l'idea di vincere vi state preparando la nuova stagione che ormai è alle porte quante squadre schiererete e con quali prospettive allora porteremo quattro squadre in quattro diversi campionati saranno il campionato di serie A con gli spaccamadoni o i maschi la formazione open poi abbiamo le donne che giocheranno nel campionato women di serie B la squadra di serie C che è il primo anno che iscriviamo chiamata Bako Amao e poi gli angry gulls che appunto giocheranno militeranno nel campionato under 17 e insomma le prospettive sono buone abbiamo insomma delle buone squadre abbiamo una buona prospettiva per la stagione quest'anno dall'anno scorso abbiamo avuto il ritorno di Diego Signoretti e dico ritorno perché è stato responsabile tecnico per tanti anni e ora dopo i vari impegni di cui citava Giovanni con le nazionali è tornato a fare fissa di morafano e quindi a avere la responsabilità tecnica di tutti i team e insomma ovviamente noi ci speriamo che sarà una buona stagione proficua sotto il livello sportivo e sotto tutti gli altri livelli avete precisato uno sport con tutti i crismi quanto impegno richiede quanto ci si allena? ci si allena ci si allena tre volte la settimana con allenamenti di due ore l'impegno l'impegno è tanto si tratta di sport agonistico si tratta di competere nei massimi livelli dello sport italiano per cui ci si confronta con squadre che hanno la disponibilità appunto di fare tre o più allenamenti e quindi bisogna allenare sia il lato tecnico che appunto il lato fisico è importante arrivare sul campo allenati è importante arrivare sul campo con un bagaglio tecnico importante perché diciamo che il connubio fra entrambi sicuramente ti dà modo di portare a casa il risultato nel reclutamento quali difficoltà incontrate perché la concorrenza degli altri disciplini immagino sia fortissima assolutamente noi diciamo è una concorrenza che ci fa piacere affrontare nel senso noi proponiamo la nostra disciplina come una disciplina appunto assolutamente competitiva una disciplina che si rivolge a chi potrebbe praticare qualsiasi sport ma decide di praticare l'ultimate frisbee e cerchiamo di rivolgerci soprattutto ai giovani cerchiamo di rivolgerci soprattutto a ragazzi sempre più giovani quindi inizialmente diciamo avevamo iniziato a coinvolgere persone della nostra età dell'epoca quindi poco più che ventenni e man mano adesso diciamo riusciamo a coinvolgere anche i ragazzi delle scuole medie ecco quindi siamo arrivati ai 12-13 anni e abbiamo in programma di scendere ancora il volume complessivo dell'attività misurato in quanti praticanti a Fano adesso come adesso abbiamo sugli 80 soci e puntiamo entro breve anche grazie appunto a delle novità importanti subentrate di recente ad arrivare oltre il centinaio l'impiantistica è un altro nodo per voi come per tutte le altre discipline dopo girovagare vario vi siete trovati una casa che è quella dell'impianto non ampissimo di San Lazzaro però sviluppate la vostra attività anche al vecchio Don Gentili assolutamente l'impianto di San Lazzaro è stato per noi una bella novità che ci ha dato modo di sviluppare di far allenare la nostra squadra junior principalmente poi insomma sicuramente le misure non sono quelle di un campo regolare da ultimate quindi qui la necessità di fare attività anche al Don Gentili esatto la necessità di fare attività anche al Don Gentili di avere un campo regolamentare di appunto poter giocare negli ampi spazi comunque l'abbiamo utilizzato sia con la squadra diciamo senior che con la squadra junior principalmente con la squadra junior una dimensione direttantistica quello dell'ultimate frisbee però ci sono comunque dei costi perché a qualsiasi livello bisogna affrontare delle spese in questo senso come vi finanziate se ci sono delle realtà che vi seguono e vi sostengono sì noi diciamo tradizionalmente ci affidiamo come molte società sportive diciamo in parte all'autofinanziamento quindi mette anche il pagamento di una quota però abbiamo diciamo delle collaborazioni importanti tra tutte la BCC che diciamo ci segue ormai da diversi anni abbiamo numerosi altri collaboratori che diciamo in vari momenti presenti passati hanno contribuito alle nostre varie iniziative che noi portiamo avanti organizziamo tornei manifestazioni e quindi ecco cerchiamo di gravare il meno possibile sugli atleti va detto che purtroppo essendoci poche squadre in Italia necessariamente il costo di trasferte di organizzazione di spostamenti campionati eccetera diventa particolarmente oneroso un Ultimate Frisbee che recentemente ha trovato un riconoscimento in ambito internazionale un salto di qualità che attendevate da tempo voi che in questo campo ci siete da tanto assolutamente noi diciamo fino ad ora avevamo in un certo qual modo sofferto della mancanza di un riconoscimento ufficiale all'interno del CONI che è invece arrivato di recente in quanto l'Ultimate Frisbee in realtà con il nome ufficiale di Flying Disc quindi il nome ufficiale della disciplina è Flying Disc è entrato nel CONI entrando a far parte di FIGES della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali quindi entrati adesso proprio di recente notizia di un mese fa poco più entrati nella famiglia di FIGES siamo ora a tutti gli effetti come Flying Disc all'interno del CONI quindi per concludere il sogno nel cassetto di qui ai prossimi anni sicuramente tornare competitivi tornare competitivi a livello italiano e perché no anche a livello europeo abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare tanti giovani che insomma si allenano ci mettono passione ci mettono voglia e quindi direi proprio questo Bottegoni condivide o ne aggiunge uno suo? Io vorrei un riconoscimento in Europa ma entro un paio d'anni non più tardi sono un ambizioso benissimo grazie ad Enrico Vincenzi direttore sportivo dell'UFA Fano Ultimate Frisbee Fano Association grazie a Giovanni Bottegoni presidente grazie a voi che ci avete seguito anche stasera contiamo che lo facciate come sempre anche la prossima settimana a Grazie a tutti.